Buongiorno ci troviamo a Ripa Teatina, oggi è domenica, alle 10 e mezza inizierà il Big Match della giornata di campionato categoria giovanissimi tra il Ripa 2007 e la Virtus del Castelfrentano. I nostri ragazzi stanno preparando il riscaldamento agli ordini di mister Gabriele. Andiamo su, sciolti via, su via veloce. Solti via laterale. Solti, si respira. Temperatura mite, bella giornata con il sole, primaverile, questi ragazzi si preparano. Nella progressione, che è finito, vanno leggerne. Via. Occhio adesso, uno, due, via. Venica. Grazie.